Siamo con il dottor Giuseppe Varlaro, sarà candidato al Consiglio Comunale di Taranto nella nostra lista Taranto senza Ilva. Lo abbiamo già conosciuto, è un medico, specialista ortopedico, già direttore della struttura semplice di ortopedia dell'ospedale Santissima annunziata di Taranto. Una sensibilità ovviamente per la salute, per la sanità e parlando, considerando la realtà di Taranto, i disastri ambientali che l'Exilva ha prodotto e continua a produrre, il pensiero non può ovviamente non andare all'inquinamento e quindi al respiro, questa parola respiro. Oggi ci occupiamo con lui della cosiddetta carta del respiro, un messaggio per tutto il mondo, per tutta l'umanità. È un aspetto, quello che lui ha voluto appunto sottolineare, un argomento da considerare con particolare attenzione perché Taranto fa parte dell'Italia, fa parte del mondo e i tarantini fino a prova contraria fanno parte del genere umano. Un genere umano che ha il diritto per natura, quella che i filosofi chiamavano un diritto naturale, lo ius nature. E allora, dottor Varlaro, anzi Giuseppe, siamo ovviamente tra noi, siamo amici da lunga data e poi siamo, come dire, compagni di questa avventura elettorale. Di grande stima poi, di grande stima. Allora, presentiamo questa carta del respiro. Sì, per me è importante dire qualcosa sulla respirazione perché a Taranto, più che in altre città, lo sanno tutti, siamo distrutti da questi due mostri, Ilva e Deni, da diversi anni e dal 61 l'Ilva, un po' dopo l'Eni, ma noi abbiamo una qualità dell'aria assolutamente insoddisfacente. L'ho voluto, ci ho tenuto molto a dire queste cose perché è importante che i cittadini sappiano che con la respirazione di un'aria pulita come dovremmo averla perché con il mare che abbiamo i flussi marini, le mareggiate e via dicendo, ci dovrebbero far respirare a pieni polmoni, così dicendo. E questo non accade, purtroppo, perché noi abbiamo una qualità della vita, non solo poi dell'aria, ma anche della vita veramente insoddisfacente. Per cui credo che la gente debba aumentare la propria consapevolezza di dove e come viviamo per avere un atto di sdegno verso quello che è stato fino adesso, dal 1960. Ecco, uno sdegno, una rabbia, il momento della denuncia, della protesta, ma è il momento della proposta. Ecco perché noi stiamo realizzando questo progetto Taranto senza Ilva, io mi sono candidato sindaco proprio per questo, perché dalla denuncia, dallo sdegno dobbiamo costruire, demolire quel mostro e costruire. Ma andiamo ai punti salienti di questa carta del respiro. La città di Isaura, così detta, è una città che fu inventata... Dove si trova? Non è, è una città nel mondo dei sogni, città creata da Italo Calvino negli anni 70, nei suoi scritti, dove la qualità dell'aria, dell'acqua, della terra era perfetta. Come dire, la cassa del mulino bianco, no? Un discorso immaginifico, diciamo. Ideale per vivere e per aumentare la propria consapevolezza. Un inciso volevo fare, io credo che la consapevolezza sia più importante di quello che è la cultura. E questo perché? Perché la cultura porta alla sapienza, come diceva il re Salomone, mentre la saggezza, la consapevolezza dell'essere porta alla saggezza. Andiamo ai punti, proprio. Allora, è nata da un'unione di tanti saggi, filosofia orientale, filosofia occidentale, coagulati dagli autori che hanno ricevuto da loro 31 messaggi, 31 scritti sulla respirazione. Ne è scaturito un libro che si chiama Il senso del respiro e, visto che avevano fatto un ottimo lavoro sotto questo punto di vista, ne hanno fatta anche una carta del respiro, come una carta costituzionale, una carta che è importante per la vita di tutti. Ci sono numerosi buddhisti, fra cui Thich Nann Han, è un nome un po' difficile a leggere, che hanno fatto le respirazioni consapevole, hanno su numerosi scritti, io ho lessi tanti anni fa questo discorso, e con il centro di, soprattutto, inspiro e mi calmo, espiro e son felice. Questo è il nodo importante. Cioè la respirazione partecipa a tanti atti nella giornata, la respirazione è automatica, per cui noi non ci accorgiamo se respiriamo bene, se respiriamo male. Però da questo dipendono tante altre cose, come l'ansia, la respirazione in stato ansioso, che non è un respiro profondo, ma sottile e flebile. Per cui loro ne hanno dedotto otto punti in questa carta del respiro. Adesso ve li leggiamo e li commentiamo uno a uno. Allora, tutti noi esseri viventi abbiamo il diritto naturale di respirare aria pura e il dovere di conservarla e preservarla per noi e le future generazioni. Questo non credo abbia bisogno di commenti perché è un punto importantissimo da cui non si può prescindere. Il respiro, fonte di vita, è la nostra risorsa più preziosa. È un dono che ci accompagna sempre. Il nostro primo e ultimo atto. Cominciamo col prendere, cioè l'inspirazione, e finiamo col dare. Il bilancio dei respiri di ogni vita è sempre in pareggio. La possibilità, la necessità e la capacità di respirare ci rendono tutti uguali, fin dal primo istante di vita. L'aria e il respiro sono una ricchezza che non si può accumulare e non può mai essere negata né tolta a nessuno. Questo è un punto importante per Taranto, credo che sia fondamentale. Quarto, tutto ciò che vive respira. Ogni singola cellula di ogni essere ha bisogno dell'aria. Vive grazie a essa e in simbiosi con tutte le altre, in un unico organismo. Così è per tutti noi, esseri connessi, grazie al respiro, con gli altri e con la natura di cui siamo parte e siamo tutti collegati all'universo. Questo è un grande concetto che bisognerebbe pensarci. Il respiro è la connessione più intima, più profonda e più radicata con il pianeta che ci ospita. alterare la biodiversità, minare e distruggere l'equilibrio della biosfera, mette a rischio la nostra sopravvivenza di singoli esseri umani, della nostra e delle altre specie. Il respiro, atto automatico e involontario, è la forma di relazione permanente tra il nostro mondo interiore e tutto ciò che circonda, l'influenza e le emozioni, l'umore, le relazioni, la salute. Più respiriamo consapevolmente, più siamo responsabili e attivi della nostra salute fisica e mentale, dell'equilibrio interiore e della pace in noi stessi con gli altri. Settimo, la voce e il silenzio sono forme di espressione del respiro. Ascoltare, esplorare e abitare il nostro respiro, affidare l'ascolto del respiro degli altri e della natura aiuta la comprensione, l'empatia, la comunicazione e la solidarietà. Conoscere e rispettare il respiro individuale e collettivo è un potente antidoto nei confronti della paura, della chiusura, della separazione tra noi e tutti gli altri esseri viventi, di ogni condizione e di ogni parte del mondo. Ottavo ed ultimo, ogni individuo ha un respiro unico, originale e inconfondibile, frutto della storia personale, familiare e sociale. Ascoltarlo in profondo e lasciare che si racconti è strumento di conoscenza di sé e di relazione con l'altro. Quindi questi sono gli otto punti che credo che non abbiano... esaltano proprio il diritto alla vita in una sola parola. Un diritto che, torniamo diciamo dall'iperuraneo, delle idee che poi qui non stiamo parlando di concetti astratti, ma concetti che attengono al diritto alla vita e sembra quasi che Taranto vive in un altro mondo, come se Taranto sembra che sia sottratta a quella che è la normalità. Una normalità, un diritto sacrosanto che affonda le sue radici nelle tradizioni più antiche, più orientali, quelle appunto relative a questo diritto, come dire, ecco, usando un'espressione bellissima che ha usato il GIP, la dottoressa Patrizia Todisco, riferendosi alla salute, è un diritto non negoziabile. imprescindibile. Io concluderei con Jung che disse che se vogliamo che le foglie del nostro albero possano salire al cielo, le nostre radici debbano andare nella profondità degli inferi. per cui è importante questo, perché senza queste radici profonde noi non potremo crescere, non elevarci e credo che sia arrivato il momento che i Tarantini debbano elevarsi da questo squallordio, a questa palude in cui siamo finiti da più di vent'anni. Il Medioevo dei diritti. Sì, sì, assurdo. Non ne abbiamo nessuno a Taranto, non abbiamo la capacità oltre di respirare, di avere delle strade decenti, non abbiamo neanche i bagni. La vivibilità non esiste più. È zero, ma guarda, io voglio fare mente locale sui posti che ci avevano messo sia Vanity Fair che il Sole 24 Ore, sempre agli ultimi posti nella qualità della vita e nel gradimento del sindaco, sempre da Ipazio Stefano a Melucci, che poi è la prosecuzione di Ipazio Stefano. Ecco, in questo caso forse mi avvicinerei a Calvino, dell'isola che non c'è, perché questa è la realtà. Bene, abbiamo fatto una bella chiacchierata con l'amico il dottor Varlaro ed è bello che queste parole, questa esaltazione del diritto alla vita, questa trattazione tra filosofia e sanità inerente al diritto del respiro, relativa appunto alla carta del respiro, sia stata fatta da un medico. Ecco la valenza, il significato di questo incontro. Se dovessimo venire eletti, tu dovessi venire eletto e via dicendo, io credo che bisognerebbe aderire culturalmente a questa carta del respiro. Il Comune di Taranto dovrà sottoscrivere questa carta del respiro. Bene, grazie Cico e in bocca al lupo andiamo avanti con Taranto senza Ilva. Una battaglia di vita, prima ancora che una battaglia elettorale. Grazie.